Il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, sollecita per la riapertura del punto nascite al San Biagio. Ossa di animali questa mattina all'ingresso del municipio di Craveggia. Il sindaco ha denunciato il fatto ai carabinieri. Il sindaco Marchioni è assente alla festa del 2 giugno, ma presente alla manifestazione del centro-destra. Le critiche del PD di Omegna. Frana la montagna alla punta di Migiandone a Ornavasso, materiale sulla pista ciclabile, fortunatamente deserta. Il mondo dei motori piange Donato Cataldo, per 25 anni, organizzatore del rally delle balli ossolane, aveva 81 anni. Nell'appuntamento del mercoledì con Fabrica, l'incontro con Carlo Galli di Autoservizi Comazzi. E ben trovati dalla redazione di VCO Notizie. In apertura di giornale, come di consueto, è il nuovo report coronavirus della regione Piemonte. Da segnalare un nuovo decesso nelle ultime ore nel VCO e uno nel Novarese. Il totale dei morti positivi sale a 127 per il Rivelbano Cusiossola e a 334 per Novara. 14 i nuovi decessi a livello regionale, per un totale di 3.898. La situazione contagi. Sono 30.734 i positivi, un aumento di 19 casi, di cui 7 positività in un RSA di Asti. Non ci sono nuovi contagiati nel VCO. Il totale resta a 1.111 e neppure in provincia di Novara, dove il totale resta a 2.707. 19.167 pazienti guariti e 2.983 in via di guarigione a livello regionale. I guariti sono 892 nel VCO. Non si registrano incrementi rispetto al dato di ieri e 1.635 in provincia di Novara. Qui ci sono due nuovi guariti. Calano ancora i ricoverati in terapia intensiva. Attualmente sono 44 in Piemonte, 841 i ricoverati in reparti ordinari, 3.800 persone sono in isolamento domiciliare, 327.000 i tamponi diagnostici eseguiti, dei quali 181.000 negativi. E rimaniamo in tema di sanità. Il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, si sollecita per chiedere la riapertura del punto nascite al San Biagio, servizio che era stato sospeso per concentrare le forze sull'emergenza coronavirus. Domodossola chiede alla regione Piemonte la riattivazione del punto nascite. Lo ha fatto il sindaco Lucio Pizzi con una lettera ufficiale. La missiva è indirizzata al governatore Cirio, all'assessore Icardi e al direttore dell'Asla Penna. Succede mentre in città serpeggia il malumore per la mancata riapertura del servizio, con SOS Ossola che riorganizza le mamme ossolane per una nuova crociata. E di questi ultimi giorni, infatti, la notizia della ricostituzione di un nuovo comitato mamme. E stando alle prime informazioni, le adesioni non mancherebbero. Il sindaco Pizzi, nella lettera inviata in Piazza Castello, traccia una breve cronistoria dei fatti. A partire dalla decisione dell'unità di crisi, a fine marzo, di sospendere temporaneamente l'attività del punto nascite dell'ospedale San Biagio, sino ad arrivare ad oggi, inizio giugno, con il quadro sanitario, seppur ancora non completamente rientrato, cambiato. Pizzi sottolinea volutamente come l'ospedale San Biagio oggi sia covid-free. Dunque, dopo settimane di emergenza, il nosocomio domese non ha pazienti ricoverati per patologie connesse al coronavirus. La tragicità della situazione e la drammaticità dei problemi che ci si trovava ad affrontare in quei giorni, scrive Pizzi, non poteva consentire a nessuna persona responsabile di discutere tale scelta organizzativa. E così è stato, sia da parte mia che praticamente di tutta l'ossola. Oggi però, dopo due mesi di responsabile silenzio, credo in coscienza, che sia giunto il momento di tornare su quanto garantito dalla Regione. Il Sindaco chiede al Governo di Torino di dimostrare che effettivamente si è trattato di una interruzione del servizio. Questo, sottolinea l'amministratore Ossolano, a dispetto delle affermazioni allarmistiche di pochi, che si è trattato davvero di sospensione temporanea. E c'è un'altra questione che fa discutere nel capoluogo Ossolano quella del mercato del sabato e della collocazione di alcuni banchi. Domani incontro dell'amministrazione con gli ambulanti. L'amministrazione lo aveva promesso e così è stato. Domani alle 15.30 ambulanti e comune si ritroveranno a Domodossola per confrontarsi su come ridisegnare il mercato del sabato. O meglio, sistemare parte di quelle 18 bancarelle di via Rosmini e piazza Mercato costrette al trasloco. Alla vigilia il clima è tutt'altro che disteso. In concomitanza con l'incontro ufficiale è infatti annunciata la presenza in città di una delegazione di ambulanti. Il tema è caldo. In assenza di un punto d'incontro si rischia lo scontro. Il comune intende far rispettare alla lettera le norme sul distanziamento sociale. I mercatali vogliono riavere il loro posteggio, gergo con cui si definisce lo stallo. Questa mattina poi sull'argomento sono intervenute anche le consigliere comunali pentastellate. Pedrolli e Ragazzini hanno condannato quanto deciso la scorsa settimana dagli uffici comunali e hanno invitato il sindaco a lavorare con gli ambulanti per trovare una soluzione che accantoni la dislocazione delle bancarelle in via Ida Braggio, zona ritenuta dalle grilline troppo periferica. Intanto un'idea della nuova piantina mercatale potrebbe arrivare visionando i divieti di sosta che la Polizia Municipale ha preannunciato per la giornata di sabato. Nessuna imposizione è prevista per via Ida Braggio, mentre i divieti di sosta sono preannunciati oltre che nelle vie abitualmente adibite a zona mercatale, anche lungo Corso Ferraris, via Marconi, in entrambi i casi su ambo i lati, Largo Madonna della Neve, comprese le aree di parcheggio alle spalle della chiesa e via Mattarella. La cronaca ossa di animali davanti all'ingresso del municipio di Craveggia sono state trovate questa mattina. Forse un atto intimidatorio, forse uno scherzo di cattivo gusto. Il sindaco Paolo Giovanola ha sporto denuncia contro i gnoti ai carabinieri. Un mucchio di ossa davanti all'ingresso del municipio. È stata una sorpresa macabra quella che si sono ritrovati davanti agli occhi questa mattina i dipendenti comunali di Craveggia. Diverse osse di animali, sembrerebbe di capre e pecore, ingombravano la scala che conduce alla porta esterna di accesso agli uffici. Uno scherzo di pessimo gusto oppure un atto intimidatorio. Sono queste le considerazioni che fa il sindaco Paolo Giovanola. Non so cosa pensare, potrebbe essere anche un atto intimidatorio. Già nella primavera del 2018 un rogo aveva distrutto la balta di mia moglie sulle alture del paese, ma magari si tratta solo di una bravata. È comunque un fatto gravissimo. Innanzitutto, spiega il primo cittadino, si rischia un problema di igiene pubblica e per questo abbiamo già provveduto a sanificare la zona. Il sindaco di Craveggia in giornata asporto denuncia contro i gnoti, ai carabinieri. Per ora si resta nel campo delle ipotesi. Quello che non capisco, aggiunge Giovanola, è il fatto che se si dovesse trattare di una sorta di protesta o di espressione di dissenso verso il comune o l'amministrazione, ci sono comunque vie più consone e civili. Esiste il dialogo e il confronto. Sulla natura delle ossa si pensa che le stesse siano riconducibili, come si diceva, a carcassi di pecore e capre. Proprio nei giorni scorsi il sindaco craveggese aveva messo un'ordinanza con cui intimava ad alcuni allevatori di effettuare la ricerca delle eventuali carcasse, per il successivo smaltimento, di pecore e capre disperse e probabilmente morte al comune di Craveggia, dove gli animali si trovavano al pascolo e che mancavano all'appello, perché sorprese in quota dalle abbondanti nevicati invernali. Non penso vi sia una correlazione tra queste due cose, conclude Giovanola. Ripeto comunque che in ogni caso le questioni si affrontano diversamente. Attimi di paura, questa mattina intra in via Roma intorno alle 11.30, un autocarro ha urtato un balcone, un pezzo di cemento si è staccato ed è caduto a terra. Fortunatamente non stava passando nessuno. Sul posto la Polizia Municipale di Verbania, che ha chiuso la strada per permettere ai vigili del fuoco di lavorare, per mettere in sicurezza l'area. Frana, ieri sera alla punta di Migiandone ad Ornavasso, sassi e terra sono finiti sulla sottostante pista ciclabile. Proiezioni di una piccola porzione di materiale anche sulla vicina strada provinciale. Un'auto di passaggio ha forato una gomma. Frana la montagna alla punta di Migiandone di Ornavasso è successo ieri sera. Circa un metro cubo di materiale si è staccato dalla parete montana che corre parallela alla pista ciclabile, vista l'ora fortunatamente deserta. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato la zona. Oggi il sopralluogo del geologo del comune, per una prima verifica. Abbiamo già incaricato una ditta per eseguire un disgaggio leggero, riferisce il sindaco Filippo Cigliara Fulgosi. Lo stesso riporta le indicazioni del geologo, secondo il quale, essendo la punta di Migiandone, oggetto di allargamento in passato con parte di materiale che è stato asportato, le rocce presenti risultano meno massicce rispetto al normale. Al momento il breve tratto di ciclabile interessato dallo smottamento resta chiuso, con ordinanza del primo cittadino. Ho anche inviato una pecca alla provincia e contattato il funzionario di riferimento, aggiunge Cicala Fulgosi, già perché accanto alla ciclabile corre la strada provinciale, peraltro ieri sera interessata ad alcuni detriti dello smottamento, che hanno colpito un'auto provocando la foratura di una gomma, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per il conducente per il mezzo. Il mio invito è una verifica da parte della provincia, a loro spetta ogni opportuna valutazione in merito a quella strada, aggiunge il sindaco, che auspica in funzione dei necessari progettazione e intervento per la messa in sicurezza del versante, una concertazione tra provincia e comune. Dure critiche da parte del PD di Omenia sulla mancata partecipazione del sindaco Marchioni alla festa della 2 giugno a Verbagna-Pallanza, fatto alle sue veci l'assessore Corbetta. Marchioni ha invece preso parte alla successiva manifestazione del centrodestra a Intra. Un'assenza che ha fatto rumore, specialmente se associata alla successiva sua presenza alla manifestazione del centrodestra. E così il PD ad Omenia va pesantemente all'attacco del sindaco Paolo Marchioni con toni e parole mai usati nei tre anni della sua amministrazione. Ieri Marchioni ha affidato all'assessore Corbetta il compito di rappresentare Omenia alle celebrazioni per la festa della Repubblica, ma poi sempre a Verbagna è sceso in piazza per manifestare il suo dissenso nei confronti del governo. Un assist troppo grande per non essere sfruttato dal PD che ha emesso un comunicato decisamente duro. Ancora una volta denunciamo l'assoluta mancanza di attenzione da parte del sindaco nel rappresentare la nostra amata città. Le celebrazioni della Repubblica sono sempre stati un momento di unione nel paese e nessuno fino a ieri aveva mai pensato di strumentalizzarli per affini politici. Marchioni ha messo in disparte il suo ruolo, attaccano i consiglieri del PD in favore di logiche politiche che vanno contro quel senso di comunità che mai come oggi dovrebbe essere presente in tutti noi. Disertando la celebrazione organizzata dalla Prefettura, ha ignorato il ruolo che gli omeniesi gli hanno assegnato privilegiando le indicazioni di partito. Anziché rappresentare omenia in un momento di indiscusso valore simbolico ha preferito manifestare con colleghi di partito che non più tardi di pochi giorni fa, in consiglio comunale, anche se a denti stretti, ha dovuto riconoscere essere persone non idonee al ruolo che svolgono, come il consigliere Preioni. Non sono piaciute al PD anche dichiarazioni e foto. Marchioni aggiungano i vari consiglieri, attaccato il governo, ignorando come i buoni alimentari assegnati fino ad oggi per la maggior parte siano stati finanziati da contributi statali e dalla generosità degli omeniesi per non parlare della rinegoziazione dei mutui appena votata all'unanimità che porterà liquidità alla bilancio e resa possibile dalle indicazioni pervenute da Roma. La foto accanto a cartelli che incitano all'intolleranza, stop, sanatoria, clandestini, sono uno schiaffo al voto unanime del Consiglio Comunale per la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Chiediamo a Marchioni, concludono dal PD, se e quando farai il primo cittadino con convinzione e non solo per obblighi politici. Oggi giornata di riapertura dei confini regionali e nazionali all'Europa e anche verso la Svizzera senza reciprocità. I cittadini della Confederazione, secondo le indicazioni di Berna, possono venire in territorio italiano per turismo, una notizia molto attesa. per andare al bar o al ristorante, per visitare un museo, ma vietato attraversare la frontiera per fare solo shopping o la spesa. Per l'ingresso in Svizzera degli italiani restano le regole delle passate settimane, motivi di lavoro, con permesso o comprovata urgenza. Ma ora vediamo il servizio relativo alla giornata di oggi della RSI. L'Italia ha dunque aperto le sue frontiere nazionali e da oggi, giorno nel quale in Ticino e nei Grigioni non si registrano né morti né contagi da Covid, anche i cittadini svizzeri possono andare in Italia. Possono andarci per svariati motivi, per svago, fare vacanza, incontrare parenti e amici, ma resta vietato il viaggio in Italia unicamente per fare acquisti, viaggio che viene sanzionato con 100 franchi di multa. I cittadini svizzeri residenti in Svizzera potranno tornare liberamente, ma dall'Italia la frontiera elvetica rimane chiusa per tutti i cittadini italiani e gli stranieri che non hanno motivi urgenti o di lavoro. Ricordiamo che per il 15 giugno la Svizzera ha previsto di aprire in modo coordinato i suoi confini con gli altri paesi limitrofi, Austria, Germania e Francia. Come viene verificato che qualcuno abbia avarcato il confine unicamente per fare la spesa? Ecco, questa diciamo che è la domanda del giorno. Tra l'altro parlando qui con il personale della Dogana, sappiamo che tantissime persone hanno chiamato oggi e si sono fermate proprio per chiedere questi chiarimenti. Diciamo che fondamentalmente bisogna essere in grado di dimostrare che ci si è recati in Italia non solo per il turismo degli acquisti, ma anche con un'altra motivazione che può essere quella dell'incontro, ad esempio con un parente o con un amico. È una cosa difficile da dimostrare, ne è cosciente anche il personale delle Dogane, per cui ci si appella un po' al buonsenso. Almeno in queste prime ore si è proceduto anche con flessibilità e soprattutto informando. Quello che posso dirvi per quanto riguarda la Dogana qui a Ponte Tresa è che non sono state combinate, almeno finora, le famose sanzioni che possono arrivare fino a 100 franchi per chi dovesse ritornare dall'Italia con le borse piene della spesa. Ci spostiamo ad Arona. Il sindaco e coordinatore del Comitato dei Sindaci per i Pendolari, Alberto Gusmeroli, scrive a Navigazione Lago Maggiore, Trenitalia e Trenord, per chiedere il ripristino della normale circolazione di battelli e treni. A fronte della necessità di una ripresa delle attività economiche e turistiche del Paese, nonché della mobilità regionale e interregionale in genere, dopo il lockdown, chiede ai gestori delle reti ferroviarie il ripristino di corse soppresse negli ultimi mesi relativi alle linee Milano-Domodossola e Arona-Novara. Un incremento dei vagoni per consentire la distanza di sicurezza e informazioni circa gli accorgimenti assunti sia all'interno delle stazioni e delle carrozze per scongiurare i riproporsi di futuri contagi. La richiesta per la navigazione Lago Maggiore è per il ripristino delle corse da e per Arona, sospese a causa dell'emergenza sanitaria. Si è spento ieri, all'età di 81 anni, Donato Cataldo, per 25 anni organizzatore del rally delle Valle Ossolane. I funerali domani, giovedì, a Premosello. Si svolgeranno domani, giovedì alle 14.30 a Premosello, Chiovenda, dove viveva i funerali di Donato Cataldo, storico presidente dell'ACI del Verbano Cusiossola, che guidava dal 1981 e proprio in veste di presidente dell'ACI, per un quarto di secolo anima e organizzatore del rally delle Valle Ossolane. Cataldo si è spento ieri, all'età di 81 anni. Lo sport era la sua vita, fedele compagno di viaggio fin dalla giovane età, poi nel lavoro, da insegnante di educazione fisica, prima al collegio Rosmini e poi alle Inaudi. Nel mondo del rally è stato assoluto punto di riferimento. Per piloti, giudici, tecnici, tifosi, amministratori e giornalisti, Cataldo e il Valle Ossolane erano un tutt'uno. Era un processo immediato, automatico e giusto, e medesimare Cataldo nello storico rally e viceversa. Con la sua competenza, con la sua lungimiranza, con la sua capacità di fare squadra, ha saputo far diventare il Valle Ossolane un must, un evento più che un semplice rally, fino a portarlo nel 1994 sul palcoscenico nazionale, grazie all'abbinamento con la Lotteria Italia, sua anche l'idea di dare vita al Vallino. Cataldo se la cavava bene anche con la racchetta, era infatti tra i soci più attivi al Circolo della Pineta di Santa Maria Maggiore. È stato per anni vicepresidente del CONI del Verbano Cusiossola e proprio il CONI nazionale gli ha conferito la stella d'argento per meriti sportivi. Lascia la moglie Candina, come lui insegnante in pensione, e il figlio Emilio Medico. E siamo all'appuntamento del mercoledì con Fabrica, la fucina delle idee, lo spazio alle imprese del nostro territorio. Con Daniele Menzi oggi incontriamo Carlo Galli, titolare di Autoservizi Comazzi. Questa settimana Fabrica non entra in una realtà produttiva, ma apre uno spazio nella mobilità territoriale. Ne parliamo con Carlo Galli, amministratore delegato di Autoservizi Comazzi, un'azienda privata, leader a livello regionale, che opera da oltre un secolo in questo settore e lo fa con oltre 80 automezzi nelle diverse sedi dedicate al trasporto pubblico e turistico e con altrettanto personale. E allora la domanda è, come vi siete organizzati in questo periodo? Ma ci siamo organizzati seguendo le linee guida concordate con l'Agenzia della Mobilità Piemontese, creando una serie di interventi. In primis la sanificazione giornaliera di tutti gli autobus, l'obbligo delle mascherine ai conducenti, quindi a tutto il personale, e ai passeggeri, che salgono naturalmente sugli autobus. Il distanziamento sugli autobus, che è stato configurato in questo modo, i primi quattro sedili sono inibiti e praticamente le persone si siedono solo sulle file lato finestrino, in modo di mantenere una distanza minima di un metro. Questo purtroppo comporta l'abbattimento di circa il 60% dei posti a sedere, quindi è una grossa limitazione, che però in questa fase non abbiamo avuto problemi, in quanto non c'è molta utenza che si sposta, e per cui speriamo che nel frattempo tutto rientri, perlomeno con l'inizio delle scuole, perché altrimenti si genereranno dei grossi problemi. Voi vi occupate sia di trasporto pubblico locale che del settore gran turismo, ma anche di noleggio autobus. Quali sono i settori e i relativi collegamenti che in questo momento si trovano in maggiore difficoltà? In questo momento in prospettiva sicuramente il settore del turismo. Noi con le 8 linee è vero che stiamo lavorando al 30%, ma con l'8 giugno ripartiremo con il servizio al completo, con l'orario estivo. Mentre invece il turismo è completamente fermo e avremo perso anche tutta la stagione, perché i contratti con gli stranieri sul Lago Maggiore sono saltati. Con i privati bisognerà vedere da settembre cosa succederà. E poi soprattutto il fatto della limitazione dei posti, perché un autobus di 52 posti può trasportare il 50% delle persone, per cui va a gravare sui costi e praticamente il costo del servizio raddoppia. La vostra è una realtà che ha sempre investito in innovazione. Le nuove tecnologie di controllo, ma anche le più recenti app di cui siete dotati, hanno sicuramente trasformato il vostro modo di lavorare. Sicuramente la tecnologia che ci ha molto agevolato è il BIP, il biglietto integrato piemontese, che tra l'altro solo poche aziende dalla provincia di Novara e VCO e sulla provincia di Cuneo ha adottato, ci consente in questa fase di dare l'opportunità ai nostri clienti di rinnovare l'abbonamento o creare un borsellino elettronico da casa, su internet, in modo che evita di avere contatti con gli autisti, ha un badge, sale sull'autobus, bippa e può salire a bordo e questo ci ha consentito effettivamente di poter andare avanti ad avere gli incassi, seppur minimi, ma certi. Per un'azienda storica come la vostra che inoltre un secolo ha dovuto attraversare i momenti più critici del nostro paese, si tratta di una nuova sfida per il settore della mobilità? La nostra azienda è condotta dalla nostra famiglia che ha iniziato l'attività addirittura nel 1890 con le carrozze da Domodossola a Briga e quindi abbiamo attraversato, o perlomeno i miei avi hanno attraversato dei periodi anche forse più tremendi e ne siamo sempre usciti, ce la faremo anche questa volta, anche perché agli imprenditori piacciono le sfide. Ed ora parliamo di un'altra importante risorsa per la nostra economia, il turismo e le nostre bellezze paesaggistiche. Tanta gente ieri 2 giugno in gita all'Alpe d'Evero. La montagna protagonista in questa primavera estate e le conferme arrivano ancora una volta dalle valli ossolane. Queste immagini sono state girate ieri 2 giugno all'Alpe d'Evero, a Carampiolo e poi al Laghetto delle Streghe. Complice alla bella giornata di sole, tante le persone che hanno scelto questi luoghi per un'escursione, per un picnic, ben frequentati anche i locali aperti, per il pranzo, per una merenda, pieni i due parcheggi a disposizione di chi si recca al Devero. Accanto ad escursionisti della zona, se ne contavano diversi provenienti dal basso Piemonte, che per la prima volta hanno scelto le montagne ossolane per trascorrere una giornata all'aria aperta e ne sono rimasti favorevolmente colpiti. Ora, con la riapertura dei confini regionali e nazionali, probabilmente il pubblico cambierà. Si attende il prossimo fine settimana. Certo è che in questa fase la montagna viene percepita come una meta particolarmente sicura, con i suoi ampi spazi, e viene quindi sempre più scelta per trascorrere il tempo libero tra relax e attività fisica en plein air alla scoperta di paesaggi mozzafiato. E in occasione del 2 giugno è in trepallanza l'iniziativa Piantine per far rinascere Verbagna, la distribuzione di vasi messi a disposizione dai floricoltori del nostro territorio. Una bella occasione per colorare le nostre case e i nostri giardini con nuovi fiori e piante e nel contempo dare una mano a chi si trova ad affrontare un difficile momento. I contributi raccolti alimenteranno il fondo del comune Verbagna Solidale per aiutare famiglie e persone in difficoltà, commercianti e piccole imprese. Scenografica anche la scritta Verbagna, ricoperta di fiori, grazie alla collaborazione dell'Associazione Eventi Verbagna. E in chiusura uno sguardo alla nostra programmazione domani alle 18 con replica venerdì alle 13 alle 21.30 ritorna l'Infinito dentro un bisogno. Questa settimana all'Infinito dentro un bisogno andremo a conoscere l'Associazione Noi Come Voi impegnata nella gestione di un centro residenziale, di un centro diurno per persone affette da disabilità. naturalmente anche l'Associazione ha dovuto chiudere i battenti in questo periodo ma ha saputo riorganizzarsi e restare comunque vicina pur mantenendo le distanze sia ai propri utenti che ai genitori con anche la riscoperta insomma del gusto dello stare in famiglia. Ci sposteremo poi a Verbagna per andare a conoscere una delle tante attività dell'Università del Benessere Auser Insieme quella dedicata al canto il mio canto libero. Vediamo allora una piccola anticipazione. Vi aspettiamo L'Infinito dentro un bisogno giovedì alle 18 su Azzurra TV. E vi ricordo ancora sempre sulla nostra emittente anche l'appuntamento quotidiano con Over TV da lunedì al sabato nel pomeriggio a partire dalle 13.30. Vicino a Azzurra TV.it per tutti gli aggiornamenti. Grazie per averci seguito. Arrivederci alle prossime edizioni.